A ottobre dell'anno scorso a Chito i 193 Stati membri delle Nazioni Unite si sono riuniti per approvare una nuova agenda urbana a livello mondiale. Questa agenda urbana si propone un cambiamento di paradigma per quanto riguarda le città che verrà implementato nei prossimi 20 anni. Questo nuovo paradigma vede le città non più come un problema per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ma anzi come uno strumento essenziale per raggiungere lo sviluppo sostenibile.